Ok, vi giuro, non so perché, non so quando, e soprattutto non so dove, cioè in realtà lo so, ma perché? Allora, Escape from... Escape PS1 Hagrid. È un gioco ambientato ad Hogwarts, e dobbiamo scappare da Hagrid. La versione PS1 di Hagrid, quindi quella, capite, no? Bruttissima, no? Questa canzone mi sta entrando nel cervello, quindi direi di fare start immediatamente. Oddio. F per Lumos, alto F4, la vada che avrà su te stesso. Non iniziamo benissimo, quindi Lumos... Oh, però, oddio. Cos'ha gli occhi? Signor Silente, il ritratto della signora grassa, è esattamente il ritratto della signora grassa del gioco per PS1. Lui no, ovviamente, lui non è quello per PS1, ma lei sì. Lei è praticamente il quadro della signora grassa della PS1. Non posso scendere? Ciao Harry, what's up, my dude? Ha chiesto a calmo, diciamo, lui. Se andando a fare una passeggiata, mi dispiace dirti che è contro le regole. Non che mi interessi, dopo tutto, ma prima che ti lasci andare, ho bisogno che tu mi faccia un favore. Voglio che mi porti almeno 15 di quelle verdi bottiglie che il developer ha messo all'interno del castello. Ho bisogno di quelle sostanze per scopi scientifici. Nulla di pericoloso, ovviamente. Ah, e attento ad Hagrid, gira intorno ai corridoi e non lasciare che ti prenda. Adesso vai. Le premesse sono veramente ottime, diciamo. Sono curioso di capire quanto è stato preso da Hogwarts della PS1, tra l'altro. Oddio. Oh, bottiglia verde. Quindi è Slenderman. È Slenderman con Harry Potter. Dobbiamo stare attenti ad Hagrid. Lì c'è una bottiglina. Arriverà? Eccolo lì. No, Hagrid, ma sei pazzo. No, ma sei pazzo. No, se mi piglia cosa succede, ragazzi. C'ho paura di quello più che altro. No, non posso... Ah! Ok. Il cuore ha ricominciato a battere. Ah, tra l'altro le sostanze sono rimaste tre, non si sono resettate. E c'è possibilità che questo gioco possa essere finito. Prima che mi venga un infarto. Dunque, di là non potevamo andare. Di qua nemmeno. Quindi il nostro nemico sono le scale, evidentemente. Oltre che Hagrid. Eccolo là, di nuovo Hagrid. Mannai a lui. E me so chiuso in un bel vicolo cieco. Mi spengo le luci. Mi vedrà lo stesso? Io penso proprio di sì. Ok, diciamo che non funziona andare da quella parte. Ho visto però una porta, se non erro. Quindi è abbastanza lineare. Possiamo fare pochi passi all'interno del castello. Oh, una bottiglia. Non ci ha visto, vero? Non ci ha visto, vero? Qui è chiuso. Ok. Oh, no. E no, stavolta ci ha visto. Ebbè, ma allora scusami. Ebbè, ma allora scusami. Ma non ci demoralizziamo, per favore. C'è da trovare le bottiglie. Di qua cosa dove andiamo? Ah, possiamo... Vabbè, raga. Possiamo shiftare. E il gioco non me l'ha detto. Non fa niente. L'abbiamo scoperto adesso. Adesso possiamo muoverci molto più rapidamente. Riprendiamo tutte le bottiglie. Siamo a 6 di 15. Speed run, no damage. Hagrid, non mi avrai mai più adesso. Non mi avrai mai più. Ciao, bello. Oh, però è veloce. Ma che ci fa lui qui? Che ci fa? Va bene la magia, ma... Oh, no. Mi sono bloccato. Oh, no, 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 no. Mi stavo prendendo. Eh, le bottiglie non sono così pratiche da prendere, comunque. Lasciatevelo dire. Oddio, ma dove stiamo finendo? Ma mi aspettavo molto meno labirintico il castello. Ogurse la conosco bene, diciamo, abbastanza. E so che è labirintica, ma non me l'aspettavo da questo gioco, in generale proprio. Allora, Hagrid, io dico che questa cosa... Cosa sto sentendo? Cosa? Ma, Hagrid, ma... L'ho visto. Vabbè, niente. Acqua è pieno. Vabbè, arrivederci. Io che mi chiedo pure... Tanto male che va se ci perdiamo, ci facciamo prendere da Hagrid e risolviamo il problema. Ah, siamo tornati. Niente, al posto, non ci siamo più persi. C'era una bottiglia qui. E anche una lì, guardala un po'. La prendiamo e corriamo via. E una qui. Prese tutte. Prese tutte, signor preside. Dovresti andare via adesso. Eh, dovrei andare via. Dove vado? Ah, così. Perfetto. Oh, bene. Sono fuori. Emo. Chi è? È Dobby? Dobby? Dobby ha portato quello che Harry Potter gli ha chiesto. Adesso gli stand up, man. Sette medicine e Dobby darà al signor Potter quello che desidera. Oh, di nuovo. Che credo non siano delle effetti... Madonna santa. Non siano delle effettive medicine. Qualcosa mi dice che è qualcosa di non legale. Questa è una... Eh, infatti. Sì, sì. C'è... Meno male che non ho la... Cos'è? Oh, salve, signor Hagrid. Dicevo, meno male che non ho la monetizzazione sul canale, ancora. Perché questo sarebbe stato demonetizzato in tempo due secondi dal signor YouTube. Oh, beh. Eh, signor Hagrid, io... Vado di qua. E non mi prende... Ma mi prende adesso. E non mi ha preso. Ah. Ma, meno male che non si resetta, dai. Meno male. Qui c'è un'altra seringhina. Cioè, volevo dire... Medicina. Oh, no. Ho sentito il respiro affannato di Hagrid dietro di me. E infatti, c'è modo di buggarlo. No, è proprio inesorabile, no? Li corre, arriva e non puoi fermarlo. Beh, in compenso abbiamo 4 su 7. Quindi siamo molto vicini alla fine di questo stage, suppongo. Spero. Che abbiamo accelerato di botto? No, non ti bloccare, ti prego. Oh, no. Oh, no. Yes. Ci siamo... Madonna. Eccola qua, un'altra. Le abbiamo tutte. Ciao, scemo. Sei gentile, signor Harry Potter. Ecco la chiave per il dungeon di Serpeverde. Che Harry Potter ha richiesto. Toppy, dov'è che deve andare? Vabbè, niente. Vai, vai via. Eh, ma lo slithering dungeon... Ah, ma forse è di sotto. Sì, era questo. Oh, dove siamo finiti adesso? Comunque lascia fare, eh. L'esplorazione si sente, eh. Si sente, c'è la magia. Oh, c'è il salto. Fatto molto male, voglio che lo sappiate. Eh? Vabbè, ragazzi, ma... Stiamo scherzando. No, 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 no. Non è saltato. Opla. Ah, dai, effettivamente, il mood del gioco PS1. Non mi chiedete perché, ma io che l'ho giocato... C'ho quel leggero sentore di gioco PS1, ma in prima persona. Certo, nel gioco PS1 non succedeva nulla di tutto questo, ovviamente. Però... Senti come incalza la musica. È una roba incredibile. Dove devo andare? Ah, non potete capire, ragazzi. Bisogna saltare e poi muoversi. Non potete saltare muovendovi, perché altrimenti si bugga completamente. Il salto, madonna, è la cosa peggiore di questo gioco. Ok. Con quanta precisione bisogna fare questa attività. No, no, no. No, da capo no, ti prego. No, da capo no. 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 Ok, ragazzi, la terza volta, credo, forse anche la quarta, che ci provo, e casco sempre come un deficiente. Io devo andare veramente con calma, perché tra l'altro il salto ha un mini microsecondo di delay, quindi io lo premo, ma lui non salta quando io lo premo, ma salta dopo qualche secondino. Oh, perfetto. È follia questo punto, veramente. Veramente. Preferivo Hagrid che... Vabbè. Videogame logic. Sorry. Ah, va bene. Il developer è molto simpatico, molto simpatico. Siccome dice, eh, no, hai la logica da videogioco e ti devo mettere un tronco qui, così non puoi passare e devi fare il percorso incredibile. Tanto adesso questo sparisce, che ve credete? Ah, no. E invece no. Ma possiamo lamerarla? Facciamo così? Lamerissimo. Attenzione. Oh, no. Ok, ok. Meno male, non ho dovuto saltare premendo il tasto. Lumos. Torniamo a poterci muovere normalmente. Oh, oh. Elm B to kill. Oh. Dobbiamo ammazzare dieci serpeverde. Invece che i modelli siano esattamente quelli di PlayStation 1. In questo caso, almeno. Oh, quanti? Alve. Ma non si bughi, venghi. Quattro serpeverde. Tre serpeverde. Di qua? No, eh? No, eh? Oh, no, ragazzi. No, ragazzi, no. No, ragazzi, no. Mi si è buggato. Mi si è buggato, ragazzi. Non ci voglio credere. Ah. Ok, ragazzi. Voi vedrete solo un taglio. Perché ho dovuto rifare tutto da capo. Tutto, tutto, ragazzi. Tutto, tutto. Anche quella parte dei salti che ho ripetuto quattro volte. Questa volta l'ho ripetuto tre volte. Comunque, ammazziamo dieci serpeverde. Mi sembra logico. Uff, uff. Oh, attenzione. Ne restava solo uno. Finisci il tuo avversario. Oh, ma io ti conosco molto bene. Toh. Uff. S'è stato reputato colpevole di omicidio. R è stato forzato ad abbandonare Hogwarts usando la mister... la Ford Anglia di Wesley sta scappando dal ministero vivendo la sua vita da fuggitivo. Cioè, fatemi capire. Io ho rifatto tutto da capo per ammazzare tre serpeverde e vedere il finale del gioco. Il finale è questo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.